Ultimo treno, destinazione lotta al vertice. Il passeggiro che dovrà provare a salirci è senza dubbio il Cerignola, che con la Cavesia, Cava dei Tirrini, darà vita al big match della giornata numero 23 del girone H del campionato di Serie D. In Campania, i gialloblu, ci arrivano con alle spalle i successi contro Manfredoni in campionato e Monticelli in Coppa. Vittorie che, se non certificano l'uscita dalla crisi, senza dubbio costituiscono un buon biglietto da visita da presentare alla seconda forza del campionato, distante sei lunghezze e, chiamata a sua volta, a tenere il passo di un Potenza che, in casa con la frattese, non dovrebbe avere grandi difficoltà a far propria l'intera posta in palio. Favorito dal pronostico partirà anche il Taranto, che all'Oea Covone contro il Pomigliano proverà a riprendere il discorso interrotto dal pari di Sansevero, che ha spezzato la serie di cinque successi di fila. Tra le Muramiche saranno impegnate anche Gravina e Nardò. I Murgiani giocheranno contro il Picerno un match tra Aspirante e la zona play-off, distante rispettivamente 3 e 4 punti, mentre il Nardò proverà contro il Francavilla in Sinni ad allungare a 12 la serie di gare senza sconfitte. In trasferta sul campo della pericolante Turris ci sarà invece l'Alta Mura, che dovrà riprendere la marcia dopo il cappò interno contro il Potenza. A completare il programma di giornata, la sfida tutta campana tra Gragnano e Sarnese.